18 milioni e mezzo di euro è la cifra stanziata dall'assessorato allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo della regione Lazio per dare il via al polo logistico avanzato dello stabilimento Fiat di Cassino. Un progetto presentato in conferenza stampa alla presenza degli attori che hanno collaborato alla realizzazione di infrastrutture di logistica avanzata che puntino a migliorare la produzione e la competitività di una delle più importanti sedi della Fiat presenti in Italia. Cassino è il più grande stabilimento della nostra regione, ha più di 5 mila addetti diretti e 10 mila persone nell'indotto. Con questo finanziamento diventa uno stabilimento all'avanguardia dal punto di vista tecnologico perché avrà una logistica integrata che consentirà di produrre tre modelli sulla stessa catena di montaggio. Questo non c'è in Italia in nessuno stabilimento e mette Cassino all'avanguardia a livello internazionale. Mettere dei soldi significa garantire che il Fiat sullo stabilimento di Cassino ha volontà di investire, tant'è che lo ha dimostrato, ha fiducia dello stabilimento e ha fiducia del territorio. Si riverberà chiaramente su quelli che sono un mantenimento, anche se noi nell'ultimo periodo abbiamo accresciuto i livelli occupazionali. Noi abbiamo assunto 600 persone con prima contratti a tempo determinato e adesso li stiamo di volta in volta confermando. Anche quest'anno confermeremo le ultime 200 persone che hanno finito il contratto di apprendistato e li passeremo ad assunzione definitiva. C'era un fornitore che stava fallendo e abbiamo insursato le sue attività per altre 350 risorse che abbiamo inglobato nello stabilimento. E' chiaro che tutto dipende sempre dai volumi di mercato, però Cassino lavorando tre modelli è più protetto da oscillazioni di mercato rispetto a qualcun altro che ne abbia solo uno di modelli. Un'incentivazione dell'occupazione ma anche della ricerca. Infatti il progetto cardine di ricerca e sviluppo sperimentale per lo studio e l'ottimizzazione delle soluzioni tecniche per gestire la fornitura dei materiali, che rappresenta il cuore dell'intervento, è stato commissionato all'Università di Cassino. Bene, un progetto importante si tratta di una collaborazione stretta con lo stabilimento più importante del gruppo Fiat in Italia, e lo stabilimento di Cassino che vede l'Università impegnata nella definizione di un nuovo modello di logistica integrata che servirà a uno stabilimento per essere in grado di sopportare le crisi, quelle di oggi e quelle di domani e per essere competitivo anche nel futuro. Il rapporto dell'Università di Cassino con la Fiat è un riconoscimento anche della forza del nostro sistema universitario e consentirà all'Università di Cassino, in particolare alla Facoltà di Ingegneria, poi di utilizzare questo software che sviluppa anche il rapporto con tante piccole e medie imprese del settore della logistica che avranno un valore aggiunto in particolare nella nostra regione.